Ciao a tutti e bentornati Spero non ho capito perché Io non ho capito, è stato il tuo canale o il mio? No, è il tuo Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale No, non saluto Io non voglio salutare Ok, qui c'è una persona abbinata senza che nemmeno ve lo presenta Sapete chi è? Ciao a tutti Quindi oggi siamo Ok, siamo ancora Siamo su Rocket League No, sì Nello scorso video che avevo visto di Rocket League era Canestro Mentre adesso è Car... Non so come si legge Io pensavo che era car perché macchina Invece no, car... Leccio Eh ma car Dovrebbe essere car, no car Vabbè basta che sia stato per il video sulla spiegazione Vai Ah gente interessa sapere perché Eh ma se non lo sappiamo nemmeno noi Allora vai Partita normale, sì Mi ha diciamo Fatto brutto Mi ha distrutto a... Mi ha distrutto o no? Mi ha distrutto A canestro Figuriamoci a questo Dove lui è plurimedagliador Allora L'altro è geniale di nuovo Sì Via Vai Oh Spesso capita Sempre così capita Ogni volta gioca Ogni volta giocavo io contro di lui All'inizio Lui liscia Io faccio gol Poi alla fine Perdo 5 a 1 Allora Allora Stavo andando sul palo Vabbè C'ho 4 di turbo quindi Meno male che pure tu non hai recuperato il turbo Vedi già mi hai rifatto il gol Ti prego Ti prego Che cazzo No No il turbo Non posso segnare così Uh Dai Tra l'altro mi vedevo Mi vedevo Da 2-3 giorni Dai non di cazzo Dai non di cazzo No è vero Non di cazzo Hai fatto subito un gioco da rocchettini che hai fatto il supergollo No No Ah No Non ci credo Dai Che cosa assurdo Dai secondo voi è capitato questa coincidenza Eh coincidenza E ora ti ho detto con un gioco Trovo pure io che mi sto a muovere come Ma mi sto lisciando tu Come un dannato mi sto a muovere pure io Porca miseria E dove gli fai il gol? No puoi Porca puttana E lo bello è che tu stavi correndo col turbo Da mezz'ora E tu stavi venendo a far destra e sinistra Ma Che cazzo è? Avevo detto io a Rocket League sono una mezza pippa Eh Perché ci ho giocato i primi tempi abbastanza Poi l'ho abbandonato per un bel po' di tempo Invece io ho continuato a perseverare E tutt'ora continua quindi Ecco vedi? Mi ripastico il cuo Da angolature impossibili Alla pirla Alla pirla Attenzione Pirlo Pirlo proprio lui Di destro Vabbè 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 no comunque Dai magari Non lo so Perché comunque Rocket League è un gran bel gioco Molto divertente Eh Ma porca Ti ho detto che finiva così Eh Ti ho detto che sarebbe finito così E io l'ho detto 5 a 1 eh Vedi come esce 5 a 1 Perfetto vediamo subito Eh Mi chiamo di Eh 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 Ah Vedi mo lisciato pure Ormai con leggerezza Dove non trovare la palla Oh Tanta roba mo perde in soltezza Oh Dai E vedi com'è Ah Un parro Oh si porta la pallavati Non to per me Ci vuole la rimonta Ho fatto 3 gol nel giro di 20 secondi Aiuto Ah Uh E parte la rimonta Scusate ragazzi se stanno quei momenti di silenzio ma Capita Eh Bisogna essere concentrati a Stigione Guarda tra l'altro lo sto mettendo io Eh eh Buona Deve fare una cosa assurda Se tu devi quella pallavati o che attenti Giocavo più a niente Te lo dico Allora Perché Perché ha fatto questo momento assurdo che va preciso un po' guarda E lo con Vengono spontanei Il doppio salto Profittiamo dell'inicio Nooo Ah Nooo Mi va infuso Che irritare Nooo Se lo strumbo l'alberto usate usare l'indicato addirittura per me no ma poco perché non lo permette un po' sempre foto posizionato al centro un uso per un po' grande ho tolto almeno qualcosa di positivo poi questo non si vede comunque esperienza come una satanato malefico quella che non ho io porca miseria quando è fido me lo dici no dai no perché vuoi ripartirla no dai ma che cazzo non è si ti ho fatto esplodere è quello che ti meriti adesso è il paregio non permetterò che accada sicuro? no oddio attenzione addirittura vuole la vittoria oddio osa dai no no vedi no me la sbaglio là dovevo premio quadrato vero? per fare tipo scherzata grazie ti è piaciuto? grazie grande collaborazione un mezzo alla miseria un assist formidabile ce l'ho fatta vabbè gol mangiato l'amorosamente gol subito l'amorosamente la dura legge del gol nonostante ti frechi come dice anche il grandissimo max che sali vabbè ah cazzo oh dai vabbè vabbè mi muovo proprio male mi muovo la mia macchina no no lascia ma vedi come faccio salti di merda devo ancora capire no uno due col muro no vedi che stava avvenendo cazzo di bucio da guarda vabbè che bucio di culo maledetto però ricordiamo ai nostri spettatori che bucio vuol dire buco è vero intanto mi diventa l'avevi presa l'avevo presa ma è clamorosa non volevo farlo è rotto bene il joystick non volevo farlo vabbè tranquillo grazie la mia so se ho 70 euro posso finire di rompere va allora clamoroso dal pareggio alla vittoria non ci credo oppure è così non vale che le torte e là ci devo essere io di solito come prima che almeno la buttavo dentro la mia porta dovevo fare così oh si mette davanti di giustezza giustezza io fisco tutti quanti ho i migliori termini ahia eccolo no dai almeno tu ti metti là come un gufo un gufo gol perché mi sei girato andrà a perdere così no cioè così no nel senso 6 a 3 eh sì come prevedibile ho perso 4 a 2 lo scorso video al canestro vabbè basket e ho perso 5 a 3 qui a calcio però dai alla fine mi sono cavato abbastanza di merda però non di merda no non sono bello alla fine bella partitina alla fine eh sì quindi possiamo direi di concludere qui il video e quindi se vi lo è piaciuto mettete mi piace condividete eh fatevici fatemi commentate vabbè commentate fatemi sapere cosa ne pensate e qui in descrizione vi lascio il link ormai noto youtuber altissimi livelli si vabbè solite cose solite cose eh dedumi ehm ovviamente fateci sapere se ne volete altri di video rocket league che volendo possiamo pure portarvi qualcosa di nuovo su rocket league come i rigori ad esempio qualche altra cosa particolare quindi mi raccomando sempre qui sotto la fantasia non ci manca eh almeno quella dai allora dai dai esattamente quindi ciao ragazzi al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti